Donald Trump messo a nudo. L'idea è venuta a un gruppo di artisti statunitensi che ha deciso di installare una serie di statue del candidato repubblicano alla Casa Bianca in giro per il paese, da San Francisco a New York. Una targhetta recita di Imperior e Snowballs, l'imperatore non ha gli attributi. Un'idea brillante, lui crede di essere la cosa più grande sulla terra e questa è una rappresentazione molto accurata di ciò che è veramente. E' grottesco, ancor più che in foto, si adatta perfettamente alla sua personalità. Pelle flaccida, una grande pancia e l'immancabile capigliatura, risate e selfie sono assicurati ma non per tutti. A Union Square a Manhattan, ad esempio, la statua è stata rimossa subito perché non autorizzata. Queste installazioni, scrivono gli autori, rappresentano un incubo fugace. Il nostro desiderio è ridere del delirante progetto di Trump di correre per la presidenza.